Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Perché ripeto quello che hai detto già tu? Ok Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tu Devo fare un saluto Devo fare un saluto Rendite conto, un saluto lo devo fare E dopo le battaglie navali passiamo all'altro titolo interessante Stavo perdendo scelta la vita Non c'è problema Dopo le battaglie navali passiamo ora a un titolo Passiamo ora a un titolo, beh questo era giusto però insomma vabbè Mi raccomando fateci sapere e iscrivetevi al vostro, al nostro, al vostro La ripartita fateci sapere va E non vi dirci sì Cosa? Noi riusciamo a dire una cosa sensata Poi leggerla è ancora più grave perché vuol dire non sapere leggere Se leggere la descrizione dracon proprio tutte sterre combattimenti 3 contro 3 ragazzi Ok vabbè Voglio vedere Grazie mille Prego Per la sputtanata generale Titolo molto interessante sempre a molti piattaforma quindi parliamo sempre di playstation 4, xbox one e pc Monster Hunter Non ti ricordo Mi viene un word Monster Hunter World Era giusto Parleremo oggi della nostra rubrica mensile e vi racconteremo quante volte pettiniamo il nostro gatto No No siamo qui per invece per invece Uno è già uscito L'altro invece dovrà uscire Non va bene Ce la facciamo Visto che sono pochi che a Fra poco ve li andremo a presentare Che a Che a Che a E visto che sono pochi Vi E visto che sono pochi Non sappiamo che dire Non so parlare oggi Non so parlare Prendete bene i nostri consigli sui futuri videogiochi che sono già usciti Perché i futuri? Porco dici Non ci riesco a parlare oggi Ci è sfuggito il primo capitolo nonostante abbiamo xbox 360 Vi ricordo che il primo titolo non era un'esclusiva E non abbiamo giocato nemmeno quello dopo Quindi il secondo capitolo che uscì esclusivamente su Nintendo Wii U Abbiamo modo di recuperarlo e non vediamo l'ora Io stavo guardando altrove It was at this moment that he knew He fucked up Serio? Sì io non sapevo Pensavo che stavi ancora le leggende improvvisando Io stavo guardando sopra e ho messo invio Azzo Dentro al Nintendo Labo troverete anche un moccio Che schifo Bello Ciao a tutti amici Benvenuti a un nuovo video dei Dreamers Love2Play Questo è un video ringraziamento per lo speciale traguardo dei 300 iscritti ragazzi Metti un pugno qui Eccolo qua Questo video di Bloopers che vi abbiamo appena mostrato è un piccolo ringraziamento per questo traguardo Che speriamo nel tempo possa crescere ancora e ancora Grazie anche a voi e al vostro supporto E adesso non ci resta che andare tutti insieme alle Termopili sperando che la sorte ci sorrida Bene Dopo questa bella di saggezza ragazzi Vi ringraziamo tantissimo per questo traguardo Restate sempre con noi Se siete nuovi iscrivetevi al canale Dopo questa battuta non so mica se si iscriveranno Probabilmente no Rimarremo fissi a 300 iscritti Anzi forse diminueranno Forse ci si prenderanno il dislike e la si sprega Fantastico Perfetto Ci siamo bruciati da soli ragazzi Grazie davvero di cuore Noi vi diamo appuntamento A un prossimo video Speriamo Ciao Ciao Per oggi è tutto Ciao ragazzi Ciao alla prossima Ok a posto Chiudi Sto morendo Sì Aaaaa 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 Aaaaaa 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 Aaaaa Aaaaaa Grazie a tutti.